Ci sono dei momenti in cui semplicemente ti vuoi male E questo è uno di quei momenti Stavo ripensando ai vecchi tempi quando facevamo delle mappe Che potevano essere dropper, potevano essere parkour dove scleravo un sacco Uno dei miei primi video andati virali su youtube è stato un video dove scleravo in una mappa con un parkour a te Oggi voglio riprovare quella sensazione adrenalinica e spiattellarvela sui vostri schermi Perché andremo a fare un nuovo dropper Fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe rivedere mappe dropper e mappe parkour sul canale Perché oggi ragazzi andremo a giocare alla mappa modern dropper Questa è una delle ultime mappe dropper uscita e come vedete ci sono un bel po' di livelli Ah c'è un secondo piano con dei livelli in costruzione quindi in futuro verrà anche aggiornata questa mappa E allora diciamolo subito se a fine video questa mappa e questo video vi sarà piaciuto lasciate un like Vi porterò anche il seguito di questa mappa Direi di cominciare da non dai livelli hard ma da quelli easy Perché no iniziamo con le cose facili Ah proprio così vengo tipato subito in aria e buttato oh mio dio Ma il primo colpo l'abbiamo fatto Ma con chi pensi di avere a che fare mappa Cioè ma stiamo scherzando e ho ottenuto un trofeo Ah ma io non lo volevo il trofeo io voglio andare qua Quindi quando tu vai sulla pedana lui ti tippa direttamente Ma dove era questa mappa che ho fatto Ok questa l'ho fatta Non c'è una cosa che mi dice questa l'hai fatta No non si capisce niente ok Icy spikes Ah in questo caso mi devo buttare e basta Ok cerchiamo di capire dove si potrebbe passare Secondo me qualcosa tipo di qui sono caduto per sbaglio raga ormai Vai vai l'ho visto l'acqua Mamma mia ragazzi ma come tu siamo forti Choose your hole Scegli il buco Voi che buco preferite Le battute quelle fresche simpatiche Devo davvero scegliere Ah c'è il contatore delle morti Nice Quindi devo scegliere Ma basta tipparmi Devo scegliere uno dei buchi là sotto In realtà come avete appena visto Non si trattava di Vabbè ma puoi morire sulle foglie dai Non si tratta di scegliere un buco tra tanti Si tratta di capire qual è quello reale Ed era questo però sono morto Ok Vabbè che ci devi fare Puoi togliermi le scritte che non vedo niente Non l'hai detto Oh appena abbiamo alzato il livello di difficoltà Allora appena abbiamo alzato il livello di difficoltà Dicevo 5 morti subito Si vede che non sono più in forma Non sono più quello di una volta che Che faceva Tutti in dropper senza particolari problemi Ogni volta mi dimentico di aspettare Che se ne vada la scritta Che palle L'attesa Non la voglio l'attesa Scegli il tuo buco Ma tua mamma sceglierà il buco Dove lo deve andare a prendere in tangenziale Io non sono morto sul quarzo Questo buco è tappato mi sa Vuoi dirmi che non è il vero buco? Vuoi dirmi che era tutto un inganno e io ci sono cascato? Era questo il buco Questa volta Non era quella buona Ma questa volta ragazzi Ho imparato dai miei errori Ok basta Ragazzi finora ho solamente giocato Adesso facciamo i seri Come vedete Ho detto che stavo giocando Appena mi sono messo serio Ce l'ho fatta Quindi era solo uno scherzo Mica ho fatto 22 morti Cioè Era tutto Evoluto Giusto Va bene ragazzi 25 livelli Quindi 22 morti Non è affatto male Ma andiamo con il 26esimo livello Che è difficile Ma con che ordini sono messi? Black and white Ah però Ok perché tipo Quelli al centro sono più difficili Boh non ho capito che cazzo Quindi facciamo Quite closely Che è semplice Cos'è? Cosa c'è? Ah è uno di quei drop dove ti devi Spostare Ma come Non c'era la colonna Che mi teneva in riga Oh ogni volta che Che spono Non mi ricordo da che parte dovevo andare Ah qua Ma non posso tipo Ah set your sponeer Ma managgia me Che non vedo le cose ovvie No raga Mi va insieme la vista Non ce la faccio Dai questo è uno di quelli facili Ora ricordo Perché non facevo più i dropper Dai Oh ok Eh non mi sono manco mosso Sto giro Ok siamo arrivati Edz Veramente edz Devo dirvi la verità Non ci sto mettendo neanche un briciolo di fatica M M I Mi Ok Levami le scritte Settiamo lo spawn Che non si sa mai Tanto in realtà lo facciamo al primo colpo Raga è ovvio Però fatemi un attimo capire Da che parte devo droppare Perché boh Non c'è Non ne ho idea Da qua forse Ah eccola là Qua Eccola L'acqua Ce l'avamo quasi Forse è più conveniente Droppare Da questa parte Ok No vabbè era easy ragazzi Era easy Sono solamente un pochino deconcentrato Dai su Cosa sarà mai Ce la Basta andare sopra Ce la possiamo fare tranquillamente Proseguendo con il prossimo livello Che era questo Giusto Hot and freeze Medium Ok E infatti c'è lava e acqua Facciamo lo spawn Devo premere per cominciare Cosa significa Potevo scegliere tra acqua e lava Sono caduto in mezzo Perché nella vita esistono anche le mezze misure Ok Ok Devo passare per forza nella lava E poi nell'acqua di lì Ok ho già visto Ok perché Hanno fatto le merde E alcune cose Ma perché mi cambi la posizione dove Dove droppo Qua Andiamo qui Cosa Quindi di qua Era fake Ma raga ma che stronzi Devo passare di nuovo dalla lava E questa volta Anche quest'acqua era fake Che poi che cazzo di ciuffo mi sta uscendo Ma me l'ho spiegato Devo tagliarmi i capelli mi sa È arrivato quel momento Nell'anno Quel periodo dell'anno Dove mi devo tagliare i capelli Ma spiegami una cosa Ma se l'acqua è fake E la lava Cioè è coperta Dove cazzo troppo Ma guarda te Ma guarda te Ero passato Ero come le verdure Passate Cosa è andato storto Ah no l'acqua era vera È perché ero caduto sul bordo qui Dove c'era Che poi Ste barri Ero inutili Sì beh dammi Non lo voglio il trofeo Che succede qua Perché mi hai tappato tutto Non mi interessa Voglio andarmene Ah cioè per andare via dal livello Devo anche fare il parkour Eh vabbè Ma qui è proprio volersi male Questo allora Cioè decidere di fare questa mappa Significa volersi male Fin quanto in alto Cioè quanto in alto devo andare Ma stiamo tipo scherzando un sacco Ah ma ragazzi Ma c'è un pulsante qui Cioè quindi Aspetta torniamo indietro Non devo tornare fino a sopra Ah ok ho preso il trofeo E mi ha dato E mi ha anche fatto passare il livello Boh strano Meno male che non dovevo rifarlo tutto fino in cima Minchia che palle sarebbe stato Comunque Primo livello difficile Black and white Oh santo cielo Già mi è andata insieme L'ha vista un sacco di volte No Setta lo spawn Yes Presto start Drop tra 5 Sì ma cosa devo fare una volta che troppo Gli odio un sacco sti livelli Ragazzi ve lo giù Oh mio dio No raga No raga Allora questo livello Sarà un puttanaio Perché ogni volta 5 secondi Vuol dire che Non fai tempo a farlo Che ti dimentichi Inoltre ti va insieme L'ha vista un sacco Oddio C'è un pulsante C'è un pulsante Dude Nice Nice qualcosa Dude Sarà un troll sicuro No ragazzi Io ho visto Credo anche l'acqua in fondo Ma È difficilissimo Eh vabbè Devo droppare magari anche dal centro Vai Vai Ci sono Ci sono Questo Me lo sento È il punto ideale Non è mai nella vita il punto ideale Non si capisce niente Non avevo visto il blocco Mi sembrava parte dallo sfondo Sarà lunga Allora Supera qui C'è un buco lì Devo andare in mezzo Quindi No Cavoli Allora ragazzi Penso che Qua Ci sia la strada migliore possibile Anche se non ci ho capito Nulla Perché Eh infatti Non Perché tipo No Adesso già non mi ricordo più Credo così Forse Non lo so ragazzi Non lo so Sì era di qua Però tipo no Tu passi Eh vabbè Però la vita è una merda Allora Non riesco a girarmi In tempo Per andare Nel foro centrale Solo che se una volta che Se una volta Che come cazzo sto parlando Una volta che Arrivi in quel punto È praticamente Fatta Perché poi Il drop Con l'acqua È direttamente lì sotto Non lo so ragazzi Proviamo a droppare Da un altro punto a caso Magari ci riesce meglio Guarda guarda Qui si vede tantissimo Oddio Oddio raga Ho cambiato Ce l'ho fatta subito Ok C'era una strada Decisamente più comoda Non lo voglio il trofeo Fammi andare via E basta Per piacere Back to hub Ah no Back to hub Mi sa che mi fa tornare Senza completare il livello O qualcosa del genere Mentre qua posso Saltare E fare che Esattamente No raga Mi sa che si completa qui il livello Back to hub Sì ok Ce l'abbiamo fatta Beh ragazzi Quanto pare questa mappa È molto più lunga Del previsto Il che mi fa anche Molto piacere Quindi abbiamo Questo primo piano In futuro Questo secondo piano Ma intanto Nel primo piano La mappa è divisa In due pareti Abbiamo fatto la prima parete E nell'altra Apparentemente abbiamo Easy hard Easy Medium Easy Medium hard Anche se equilibrato Ci sono due livelli hard Quindi mi sa che sarà Una sfida ancora più difficile Fatemi sapere se volete La seconda parte Fatemi sapere se Vi farebbe piacere Questa è una mappa Occasionale Ma se vi piace l'idea Possiamo organizzare Qualcosa di più complesso Ora ragazzi Io direi di concludere il video E Qua pure crolla tutto Io mi vado a fare una camomilla Che forse è meglio Che forse è meglio